ciao amici sono pier della libreria alchimista sono qua a presentarvi un nuovo libro come di consueto il nostro appuntamento affronta sempre tematiche nuove sempre tematiche del mondo non conosciuto dell'ignoto oggi ho voglia di presentarvi un libro di frontiera un libro di frontiera in tutti i sensi uno perché tratta proprio la frontiera americana la cosiddetta frontiera dove pionieri americani partivano per questo viaggio verso l'ignoto alla ricerca di un mondo nuovo dove vivere e questo mondo era irto di difficoltà di sfide da superare per raggiungere il mondo che si voleva realizzare e frontiera anche perché tratta proprio l'altra frontiera che noi amiamo questo viaggio nello spazio del tempo nella zona grigia nella zona dove ancora non si è scoperto tutto affrontandola in maniera esoterica lungo viaggio verso l'ignoto come ogni ricercatore spirituale affronta un lungo viaggio verso l'ignoto dentro se stesso il libro in questione si intitola i misteri del far west eccolo qua di john mario mollar e il sottotitolo è storie insolite macabre e curiose della frontiera americana edizione punto incontro è diviso in quattro punti in quattro capitoli nel primo capitolo si concentra sul folklore quindi avremo le classiche storie di fantasmi storie di vampiri le storie dei giganti ma anche storie più classiche più tipiche della frontiera americana legate alla spiritualità degli indiani america tipo il wendigo lo skinwalker che è il muta forma e ghost rider poi c'è un capitolo dove parla degli esseri volanti quindi si parlerà di creature fantastiche volanti e poi anche dell'ufologia classica molto molto interessante perché questo genere ufologia è precedente a quella conosciuta e quella classica il terzo capitolo parla di personaggi realmente vissuti con le loro leggende e altre pizzerie poi c'è un quarto capitolo che riguarda il serial killer io vi consiglio questo libro perché è molto ma molto interessante perché per ogni amante ricercatore dell'ignoto è un libro che ti fa entrare nel vissuto del mistero mille curiosità e racconto dopo racconto tra una parte mitologica e una parte di realtà si avvolge in un'atrosfera ricca di mistero il libro lo potete trovare in libreria se siete lontani facciamo anche le spedizioni con questo concluso e vi aspetto per un prossimo appuntamento e per un nuovo libro ciao a tutti